Noi riteniamo che le nostre imprese abbiano avuto tanto da questo territorio ed è giusto che ricambiano anche verso il territorio quello che hanno avuto. È un percorso avviato nell'ottobre del 2021, quello che ha permesso a Confartigianato Imprese Asolo Montebelluna di dare forma al suo primo bilancio sociale presentato nei giorni scorsi alla Fornace. È un qualcosa che abbiamo per la prima volta esplicitato in forma cartacea, però noi la nostra attività sul sociale è da quando siamo nati. Abbiamo sempre avuto la vocazione e la propensione di attivarci sul territorio, anzi essere attivatori di politiche per il territorio che poi sono state raccolte da tutti. Vedi ad esempio il Mabunesco nasce da nostre istanze. Le richieste dell'agenda 2030 dell'ONU come orizzonte per iniziative da mettere in campo. Abbiamo portato dei progetti sulla sostenibilità, quindi sia sociale che ambientale che economica nelle scuole, e quindi parlo di scuole medie, quindi abbiamo lavorato attivamente con i ragazzi. Abbiamo portato dei progetti sperimentali nelle nostre aziende con l'università in materia di sostenibilità ambientale. Senza tralasciare la solidarietà e i progetti di sostegno come la Sartoria Sociale di Asolo. È un'organizzazione dove ragazze provenienti da paesi non italiane riescono gratuitamente ad avere un'istruzione pratica operativa sartoriale per riuscire poi quindi anche a spendersi nel mondo del lavoro. Nel bilancio sociale compaiono anche le molte attività portate avanti dall'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Noi proprio nel nostro statuto e bilancio abbiamo previsto che noi dobbiamo spendere il 40% per quanto riguarda l'attività di solidarietà sul territorio. Ogni territorio, perché la provincia del territorio è divisa in sei mandamenti e ognuno fa la propria attività. Noi non abbiamo la presunzione di fare progetti a lungo termine, ma la nostra età non ce lo permette. Però se li facciamo nei confronti delle future generazioni e magari delle persone giovani che hanno bisogno, i nostri progetti diventano a lungo termine.